Nella partita, Bari-Juventus-Necruz. Cosa hai sentito quando ti avessi il dito? E Necruz. Inizia la partita, tocca Necruz, che la prima palla mi dà una botta sui coglioni, da sotto. Ma dico, ma che giro? Ma stai scherzando? Ma che stai a fare? Tutta la partita, a fine primo tempo, all'IPI, gli ho chiesto, mister, tirami fuori, se no gli do una gomitata, mi continua a toccare le palle, cioè, tutta la partita così. Però dopo, al ritorno, avevo caricato un po' Montero. A un certo punto, su un angolo, sento...